Allora, la domanda è questa, se lei domani fosse sindaco per un giorno, cos'è che farebbe? La prima cosa è che mi metterebbe le mani nei capelli, ma visto che sono senza capelli, allora io do moltissima importanza a una cosa, Merano dovrebbe, se fossi sindaco, cercherei di parlare con i miei partner nella giunta, di venire a un, non un accordo, di fare in modo tale che tutta la popolazione meranese venga trattata a pari dignità, cioè nessuno si deve sentire a Merano al di sopra delle parti, nel senso, di lingua tedesca, vorrei che finalmente si smettesse di dire a Merano, io sono di lingua italiana, io sono di lingua tedesca, io sono un meranese e sono un meranese e deve essere trattato da tutti, in modo particolare dai rappresentanti nostri in comune, con la stessa dignità come trattano il proprio gruppo linguistico, questo sia da parte tedesca che da parte italiana, qualcuno dovrebbe finalmente fare un piccolo bagno di umiltà e capire che tutti quanti abbiamo per la nostra città lo stesso identico valore, abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri per la nostra città, grazie. Bello questo è il bagno di umiltà, da spazzo, da umiltà, da spazzo, da bescheidenza, da spazzo, da bescheidenza.